Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Qualche mese fa abbiamo dedicato una puntata che vi metto in descrizione alle streghe e all'inquisizione nella zona di Modena. Una puntata in cui abbiamo cercato di grattare un po' di leggenda legata sia alla stregoneria che all'inquisizione e di raccontare come le cose andassero realmente, sia a chi fossero queste persone accusate di stregoneria piuttosto che di eresia, ma anche di raccontare come funzionasse un tribunale dell'inquisizione. Bene, nella puntata di oggi ci spostiamo dal punto di vista geografico, non ci spostiamo molto dal punto di vista temporale perché rimaniamo comunque nel periodo del XVI secolo e andiamo a raccontare cosa fossero i processi per stregoneria e per eresia nella Sardegna del XVI secolo. Anche in questo caso ci sarà tanto da raccontare. Ci sarà innanzitutto da raccontare quale fosse il substrato culturale, quali fossero le leggende, le tradizioni, da cui ovviamente partivano le accuse di stregoneria, perché se non vi fossero state delle leggende sull'esistenza delle streghe era difficile pensare che qualcuno potesse accusare un vicino di questo. Scopriremo chi erano queste persone accusate, ma poi scopriremo anche come l'inquisizione, peraltro l'inquisizione spagnola, perché per tanti secoli, compreso appunto il XVI, la Sardegna è stata sotto controllo dell'Aragona prima e della Spagna poi, bene, scopriremo come l'inquisizione spagnola talvolta venisse usata anche a fini politici per colpire chi in Sardegna, così come altrove, cercava di cambiare l'ordine costituito o semplicemente aveva pestato i piedi alle persone sbagliate. Proveremo a raccontare tutto questo e lo faremo grazie al materiale che mi ha mandato una sarda doc, cioè Antonella Romano, che ringrazio tantissimo perché come sempre trova delle storie fantastiche. Quindi, come sempre, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla e poi iniziamo a raccontare. Se partiamo dagli aspetti più tradizionali di questa storia, ovviamente, come è facile immaginare, in Sardegna, esattamente come nel resto dell'Europa cattolica, esistevano tutta una serie di leggende legate all'esistenza delle streghe. C'è da dire che però, rispetto a quanto abbiamo raccontato appunto nell'Emilia Romagna, qui le leggende sono forse un po' meno legate all'aspetto religioso e molto più legate invece all'aspetto tradizionale. Quindi abbiamo molte meno streghe o stregoni che guadagnano i loro poteri facendo un patto con il diavolo, quindi giacendo con il diavolo, facendo dei sacrifici, o talvolta magari perché irretiti dal diavolo stesso che in cambio di qualche favore gli concede i suoi poteri, e abbiamo invece molte più streghe che o ottengono i loro poteri per caso, in forma assolutamente naturale, oppure li ottengono da degli spiriti legati alla terra e all'aria, ma comunque alla Sardegna. Tanto per fare qualche esempio, uno dei tipi di streghe più famoso di Sardegna sono le cosiddette Kogas, che secondo la tradizione nascerebbero quando una bambina nasce come settima figlia in una famiglia, quindi settima figlia di sette donne, la settima che lo volesse o non lo volesse nascerà come Kogas con i suoi poteri. Secondo la tradizione queste Kogas, che in alcune forme potevano anche nascere ad esempio il 24 dicembre a mezzanotte, anche questo era considerato un momento che poteva far nascere le streghe, queste Kogas erano donne particolarmente brutte, che addirittura a volte avevano una coda a caratterizzarle, che durante il giorno erano delle donne normalissime, che nonostante fossero particolarmente brutte, potevano avere una famiglia, fare dei figli, ma che di notte acquisivano i loro poteri e insieme ai loro poteri acquisivano anche una fortissima sete di sangue che li portava ad entrare nelle case altrui per cercare soprattutto di colpire i bambini e succhiare loro il sangue. Questa commistione tra la strega e il vampiro, se vogliamo, è una cosa molto molto tipica della Sardegna e la vediamo ripresentata in tantissime leggende in cui queste due figure sembrano quasi fondersi in un'unica immagine. Per proteggersi da queste Kogas ovviamente c'erano tutta una serie di scongiuri, c'erano intanzitutto ovviamente delle classiche invocazioni, talvolta divine, talvolta invece legate più ad antiche tradizioni. Esisteva anche un santo protettore dalle streghe, San Sisigno da Villacidro, di cui esiste una chiesa molto antica proprio a Villacidro, che era presentato molto spesso proprio nell'atto di bloccare con una mano una Kogas mentre con l'altra benedice il popolo, come dire che affidandosi a questo santo si sarebbe potuto avere la protezione ed impedire alle streghe di colpire la propria famiglia. Ma come vi dicevo c'erano poi dei mezzi molto più tradizionali, talvolta fisici, come ad esempio prendere uno sgabello a tre gambe e rovesciarlo lasciandolo vicino alla porta, oppure prendere una scopa e lasciarla anch'essa con la parte per scopare in alto, oppure prendere della cera d'api e con quella chiudere le porte, oppure utilizzare dei rametti, dei rametti di alcune piante considerate protettive che si andavano a posizionare sopra le porte o sopra le finestre. Sono tradizioni, tradizioni molto antiche, che come è facile pensare, molto probabilmente erano dei lontanissimi ricordi di pratiche fatte in epoca pagana prima dell'arrivo del cristianesimo, che forse inizialmente erano dei modi per premiare una divinità o piuttosto per acquisirne il favore e che poi erano rimasti proprio come scongiuri contro le streghe stesse. Non tutte le streghe però in Sardegna erano brutte, non erano tutte delle cogas, tutt'altro molto simili alle cogas per possibilità di nascita, ma diverse dal punto di vista fisico, erano ad esempio le bruscias, che erano delle streghe che venivano immaginate essere particolarmente belle e che utilizzavano, ovviamente anche loro di notte e anche loro con lo stesso scopo quello di succhiare il sangue agli avversari, utilizzavano invece la propria bellezza, la propria avvenenza, delle arti che gli erano state donate che permettevano di inretire qualunque uomo e gli permettevano appunto di entrare in casa e di succhiarne quindi il sangue. C'erano poi delle streghe diverse, che sono un po' meno umane perché vabbè le cogas avevano la coda ma poi rimanevano umane così come le bruscias, ma delle streghe che sono invece maggiormente legati a degli spiriti e che probabilmente sono frutto di tradizioni molto molto più antiche come vi dicevo legate appunto al periodo del paganesimo precristiano. Ad esempio c'erano le surbiles, che erano delle streghe particolarmente temibili, che erano fatte da delle donne che erano possedute da degli spiriti dell'aria che donavano loro grandissimi poteri, tra cui quello di poter scomparire e riapparire da un'altra parte, quello di poter ovviamente controllare gli elementi e simili, anche se legate a spiriti diversi, forse più legate alla terra, erano invece le striesse. C'era poi un ultimo tipo di queste streghe, streghe che peraltro in alcune leggende vengono rappresentate quasi come delle fate maligne, quindi perdendo quasi completamente la loro connotazione umana, ed erano le cosiddette Ianas. Le Ianas hanno un'origine molto particolare, proprio tipicamente sarda, cioè le cosiddette Domus de Ianas. Le Domus de Ianas, che esistono veramente, si possono anche visitare, sono delle grotte rupestri molto molto antiche che probabilmente venivano utilizzate come abitazione, ma anche per la sepoltura o per crearvi dei templi. Delle grotte che sono ovviamente conosciute, erano conosciute anche in età moderna in Sardegna e da cui originavano queste leggende, perché si diceva che questi spiriti nascessero proprio da queste grotte, dal contatto con gli spiriti degli antenati e da queste grotte traessero forza, forza che gli permetteva di uscirne e di compiere ovviamente i loro atti. In questo caso, anche in questo caso, come vedete, un rapporto tra la realtà, quello delle Domus de Ianas e questa storia inventata delle Ianas come streghe, come fate che ci racconta appunto di come nascono queste leggende. Ma tutte queste streghe erano solo donne? È una bella domanda, perché finora ho quasi solo parlato di streghe, mentre se avete visto la puntata dedicata alla zona di Modena, lì parlavamo di streghe e stregoni. Bene, in realtà in Sardegna questi termini che abbiamo utilizzato si potevano utilizzare indifferentemente per uomini per donne e non c'era una grandissima divisione tra un tipo e l'altro, tanto che, quando poi dopo vi farò degli esempi, vedrete come se uomini e che donne potevano essere accusati di stregoneria senza alcun problema, anche senza peraltro l'intervento diretto del diavolo. E questa è una caratteristica proprio tipica di queste leggende, perché invece in altre parti d'Europa, come abbiamo visto, ad esempio appunto nella zona di Modena, spesso le streghe che ricevevano, erano più numerose e ricevevano i poteri direttamente dal diavolo, mentre gli stregoni erano meno numerosi, però avevano quasi sempre dei ruoli di vertice in questa specie di organizzazione, ma appunto le streghe femmine erano più numerose. In Sardegna potremmo dire quasi che ci sia una parità tra i due sessi, almeno in questo. A questo punto è molto interessante partire da queste leggende, che ovviamente sono leggende, per provare a fare qualche considerazione. La prima è ovviamente sull'origine, ma di questo un po' ne abbiamo già parlato. È facile pensare, come vi dicevo, che queste leggende originino nel periodo pagano pre-cristiano e siano frutto proprio della trasformazione di antichi riti, di antiche usanze, di antiche leggende nella formazione di queste streghe. Ma è una cosa che vediamo succedere molto comunemente. Pensate solo ad esempio alla classica immagine che abbiamo di Satana, con le corna, con le zampe caprine, che è palesemente ispirato al dio Pan. Quindi come vedete sono cose che sono abbastanza comuni che avvengano. Bene, una volta che abbiamo però stabilito quali siano le leggende sulle streghe, da cui ovviamente si parte, possiamo provare a immaginare quali potessero essere le colpe di cui una strega piuttosto che uno stregone potesse essere accusato. Perché, ovviamente, se questi erano i poteri che si riconoscevano alle streghe e gli stregoni nelle leggende, leggende che da alcuni erano considerate vero, ovviamente, allora chi veniva accusato di stregoneria doveva in qualche modo avere quei poteri. E così, ad esempio, una donna particolarmente brutta, che viveva magari ai margini della società, poteva essere accusata di essere una corgas. Piuttosto che una donna, invece, particolarmente bella, che giunta in un villaggio aveva magari sedotto il marito di un'altra donna, poteva essere considerata una bruscias. E magari l'uomo, per togliere la colpa del tradimento, poteva dire che sì, era stato irretito, che sicuramente c'erano dei poteri terribili e che invece lui era semplicemente caduto tra le braccia di un'altra donna. Ci sono poi anche tutto una serie di accuse molto più specifiche. Ad esempio, tra poco vi farò degli esempi che vi leggerò, perché è molto interessante proprio andare a vedere quali fossero queste accuse. Ad esempio, tra queste accuse, abbiamo dei casi in cui delle persone venivano accusate di utilizzare dei metodi tradizionali per curare delle malattie. Ovviamente non si trattava di pozioni piuttosto che di magia, ma si trattava molto spesso di semplici, antichissimi, metodi naturali che magari erano usati da millenni, ma che erano diversi rispetto alla medicina praticata all'epoca e che ovviamente non erano praticati da medici piuttosto che da veterinari, per virgolette, ma che proprio per questo spingevano a far credere che una persona in grado di guarire delle bestie fosse in realtà un mago e lo facesse semplicemente grazie ai suoi poteri. Quando appunto invece magari erano dei metodi naturali molto più funzionali rispetto alla medicina dell'epoca basata sui quattro umori, che francamente di basi scientifiche non ne aveva veramente nessuna. Talvolta, come vedremo, si tratta invece palesemente del mascheramento di patologie psichiatriche. Abbiamo dei casi in cui vengono accusate delle donne e degli uomini di parlare da soli, di rivolgersi ai defunti, di cercare di mettersi in comunicazione con il marito, con il figlio morto. Abbiamo dei casi in cui delle donne o degli uomini raccontano di aver parlato con un santo, di aver a lungo discusso con qualcuno scomparso, di aver visto delle luci immaginarie. Sono verosimilmente dei casi di patologie psichiatriche che venivano inquadrati invece in un caso di possessione diabolica e portavano ovviamente ad un'accusa di stregoneria. Un caso particolare, poi lo andremo poi, ripeto, dopo faremo invece una lista più veloce, è il caso di una donna che venne accusata due volte di essere una strega. Si chiamava Maria Zanna e proveniva da Gonoscodina. Secondo quello che si racconta, nel 1570 Maria Zanna venne accusata di essere una strega. La base era molto semplice, la donna verosimilmente praticava in effetti attività da fattucchiera, cioè sostanzialmente viveva un po' alle spalle del resto del villaggio fingendo di lanciare o togliere malattie piuttosto che maledizioni, fingendo di creare delle pozioni d'amore o di favorire uno piuttosto che un altro. Poi si racconta che imprecasse particolarmente, facesse delle preghiere al contrario. Insomma, diciamo una via di mezzo tra una ciarlatana e una che forse qualche problema psichiatrico ce l'aveva. Ad un certo punto, 14 persone del suo villaggio andarono a denunciarla e testimoniarono che si trattava proprio di una strega. E possiamo anche pensare che questa denuncia nascesse magari da qualche gelosia, perché o la donna non era riuscita a far ottenere a chi l'aveva pagata quello che voleva, o al contrario qualcuno pensava che la donna l'avesse maledetta perché pagata da chissà chi. È una cosa che se ci pensate è come se uno oggi andasse a farsi leggere le carte da una chiromante, poi le cose non si avverassero e l'andasse a denunciare come strega. Diciamo che se l'andasse a denunciare come ciarlatana forse qualcosa riesce ad avere. Immaginatevi andare dalla polizia a dire lei è veramente una strega perché realmente ha dei poteri. Probabilmente prendono te e ti mandano in ospedale, perché insomma all'epoca funzionava in maniera un po' diversa. Ad ogni modo questa donna una volta accusata inizialmente se la cavò in maniera relativamente leggera con delle frustate, ma pochi anni dopo starà nuovamente accusata perché verosimente non aveva interrotto i suoi traffici da cui aveva da vivere e questa volta cercò di cavarsela accusando degli altri, dicendo che in realtà lei i poteri li aveva veramente, facendo quindi una confessione, ma che non li aveva mai voluti, ma che degli zingari di passaggio l'avevano presa, l'avevano legata, le avevano tagliato le unghie e i capelli e con quelli avevano creato una pozione, poi l'avevano cosparso, gli avevano cosparso il capo per tre volte di acqua e piombo, una mistura proprio di acqua e piombo, e in questo modo le avevano costrette a stringere un patto con il demonio che le aveva dato quei poteri. Per riuscire a dimostrare la cosa, con un atto molto molto scenico, indicò una cassa che si trovava nella sua casa e una volta andatela ad aprire, il vescovo che la stava in quel momento inquisendo trovò in effetti dentro un corno di bue dei capelli delle unghie tagliate e dell'acqua mista a piombo, proprio simbolo di questo legame. La donna ovviamente fece penitenza, rimase per un anno in galera e alla fine dopo pagamento di una multa fu liberata. Insomma, è un caso molto particolare, ma come vedremo di casi di questo genere ce ne sono veramente, veramente tanti. Che cosa veniva fatto però a queste streghe o a questi stregoni? Beh, in effetti le pene erano moltissime. Innanzitutto la cosa più semplice che poteva venire chiesto loro era una biura, cioè sostanzialmente di dire che rinunciavano a tutti i loro poteri, rinunciavano a qualunque legame col demonio e in questo modo avevano salva non solo la vita, ma nella loro idea anche l'anima. Queste abiure erano, come dire, di più livelli. Esistevano delle abiure semplici, a cui ad esempio veniva costretto chi veniva accusato senza particolari prove di essere una strega. Un po' come dire, sei una strega? No, assolutamente, io abiuro qualunque potere. E in questo modo dimostravi che non lo eri. Abiure sempre più importanti venivano invece combinate a chi si trovava a avere delle prove a loro carico. Gli si poteva chiedere di abiurare di fronte a dei testimoni, gli si poteva chiedere di abiurare di fronte all'intero popolo cittadino che assisteva così a queste celebrazioni e magari poi il penitente veniva costretto a portare per un certo periodo di tempo, talvolta addirittura per tutta la vita una specie di saio con dei segni che lo indicavano proprio per essere stato uno stregone e per aver poi abiurato. Talvolta però le pene non bastavano. Ci sono dei casi in cui uomini e donne furono sottoposti a delle frustate, frustate che avevano anche in questo caso talvolta uno scopo proprio dimostrativo, perché in alcuni casi le frustate venivano divise equamente, metà somministrate nella città dove veniva emanato giudizio, l'altra metà nel paese di provenienza dell'uomo e della donna, come a dimostrare che il tutto era avvenuto. Talvolta venivano costretti a rimanere in prigione, a pagare delle multe, oppure venivano addirittura allontanati dal loro villaggio se non perché addirittura dalla Sardegna, per periodi brevi o per periodi più lunghi. E poi ovviamente anche in Sardegna, come nel resto dell'Europa cattolica, capitava che in casi particolarmente gravi o in cui l'inquisitore aveva deciso di andare fino in fondo, uomini e donne potessero essere uccisi. Molto spesso, un po' come si vede nei film, ma come purtroppo capitava realmente, anche fatti bruciare sul rogo. A questo punto, come vi dicevo, vorrei farvi qualche esempio, e in effetti il materiale che mi ha mandato Antonella era pieno di esempi interessantissimi, dato che immagino che capiate benissimo che non posso impararmi a memoria i nomi e non voglio farvi un video spezzettato in cui vi dico due parole e mi fermo, due parole e mi fermo, senza vergogna vi dico che li sto per leggere. Ma sono veramente esempi molto interessanti che ci fanno vedere non solo come queste pratiche durarono molto nel tempo, ma come le accuse potessero essere varie e come potessero essere varie anche il luogo in cui venivano combinate e il modo per punire questa fantomatica stregoneria. Ad esempio, nella zona di Alghero abbiamo una certa Caterina Querqui che nel 1744 venne accusata di aver invocato il diavolo e che per questo venne costretta alla biura. Domenica Gerin fu accusata nel 1735 di aver visto e parlato col demonio, che lei disse di aver visto in forma animale, quindi in maniera un po' diversa. Maria Soro, denunciata nel 1735, disse di aver parlato in sogno con un defunto, quindi con un morto, che gli chiese di accendere una lampada in chiesa. Dove era quella colpa? La colpa era ovviamente di aver parlato con un defunto, quindi ci volevano dei poteri per poterlo fare. Ecco, probabilmente questa donna lo aveva raccontato ai vicini e i vicini si erano affrettati ad andarlo a raccontare all'inquisitore. Anna Maria Iddau fu accusata nel 1735 di aver predetto la morte di una persona tramite riti divinatori, mentre se rampiò una manna fu penitenziata nell'auto da fede il 14 dicembre 1578, quindi 150 anni prima, perché era accusata da molte persone di parlare con la luna e con il sole. E dato che nel processo, cioè quando le andarono a chiedere, ma tu parli veramente con la luna, con il sole? Probabilmente questa è anche una donna disturbata, chissà va a sapere. Disse che la colpa era di una tal Sebastiana Sanna che le aveva insegnato le orazioni verso il sole e ovviamente anche la povera Sebastiana Sanna, che magari era stata tirata in ballo senza averne assolutamente nessuna colpa, finì in mezzo a questo processo ed entrambe furono condannate poi alla Biura e ad un periodo di prigionia. Facciamo altri esempi, anche ci sono ovviamente anche dei canonici Giovanni Mazzuzzi, Mazzuzzi, la pronuncia perdonatemi, canonico di Aless, penitenziato negli anni 1585-1586 per aver dato dei foglietti con parole scritte a molti rei confessi affinché resistessero la tortura e non confessassero la verità. Cioè questo era un uomo che verosimente andava da uomini e donne accusati di stregoneria, gli diceva non confessate perché se riuscite a resistere forse vi evitate la punizione e per questo, che probabilmente era semplicemente un atto di umana pietà, venne accusato di essere anche lui uno stregone. Interessantissimo, nella zona di Arizzo, una tal Antonia Uzai, che fu processata per stregoneria nel 1585 e 1593, che disse di avere un libro magico, che utilizzava per le sue magie. Durante il processo si resero conto che non sapeva leggere e non sapeva leggere nessun libro, quindi se anche avesse avuto un libro magico non lo avrebbe saputo leggere. Il libro non fu mai trovato, ma la donna nel dubbio venne comunque condannata perché non si poteva mai fare. A Baradili, una tale Giuliana Trogu, venne accusata di essere un'apostata e venne mantenuta per molto tempo, venne accusata di essere una strega, resistette per lungo tempo alla tortura, alla fine confessò i suoi atti di stregoneria e nel 1565 celebrò un'auto da fe, cioè fece una biura di fronte a tutto il popolo, ma la cosa gli andò abbastanza bene, perché quello stesso giorno ben 13 persone furono bruciate vive, quindi insomma meglio quello piuttosto che altro. A Bono, una tal Sebastiana de Baranu fu denunciata nel 1728 perché dichiarava di parlare con Santa Restituta. Io parlo coi santi e non so se avete mai visto Don Camillo e Peppone, ecco Don Camillo l'avrebbero probabilmente preso e lo avrebbero bruciato vivo perché parlava direttamente con Gesù e questo lo abbiamo visto. A Cagliari, poi smetto, credo che abbiate capito un po' come funziona, a Cagliari Donna Catalina, sposata vacca, fu accusata di aver fatto preparare da una grande fattucchiera delle polveri per uccidere il vicere. Lei in effetti era imparentata con il vicere precedente, secondo quello che si racconta, voleva uccidere il vicere in quel momento in carica. Quando venne fuori la cosa, vennero arrestate sia lei che la fattucchiera. Ora, la fattucchiera che era una povera donna, venne fatta uccidere dopo la confessione, così si risolvevano il problema, tra l'altro impiccandola questa volta, non bruciandola, almeno quello. Mentre invece Donna Catalina fu torturata, ma in realtà negò sempre tutte le accuse. Ad ogni modo, dato che era nobile e non c'era stata una confessione, per risolvere il problema, presero lei e la figlia Serafina Vacca, considerata sua complice, e vennero esiliate fuori dalla Sardegna. Insomma, di casi di questo genere, ripeto, ce ne sono molte. Alcuni casi, poi, fanno veramente un po' sorridere, come quelli avvenuti a Macomere. Un certo Gavino Faedda, un contadino, fu condannato nel 1678 per aver curato un gran numero di animali e di persone. Cioè, lui li aveva curati, li aveva salvati, li aveva fatti guarire, ma venne comunque condannato. Perché? Perché non era un medico, ma aveva preso l'uso di queste cure magiche da un sacerdote defunto. In più, sottoposto a processo, ammise di aver imparato anche alcune di quelle tecniche da una gitana di passaggio, che si chiamava Mandas, e di aver raccolto le erbe nella notte di San Giovanni, perché così gli era stato detto che le erbe potevano funzionare. Ora, ovviamente, tutto questo aveva una base di superstizione, ma probabilmente quelle tecniche di cura, come vi dicevo prima, funzionavano realmente, ma non bastava. Comunque si veniva accusati e si poteva essere condannati. L'ultima che mi son tenuto da parte è, invece, quella veramente un po' più particolare. Un povero contadino, che si chiamava Antonio Mereu, fu condannato nel 1618. Era stato già accusato di stregoneria per certe sue pratiche ed era stato portato in galera, ma fino a quel momento non c'erano ancora state grosse accuse. Mentre si trovava in galera, però, i suoi compagni dissero che aveva trasformato una scodella d'acqua in una scodella di sangue, in questo modo terrorizzandoli e dimostrando di avere dei grandi poteri. Quando Mereu venne accusato della cosa, disse che in realtà era un trucco, cioè lui non aveva nessun potere, aveva fatto l'equivalente di un trucco di prestigio perché voleva spaventare i suoi compagni di cella, facile immaginare perché voleva evitare magari di essere messo in mezzo e di essere picchiato da loro, e la cosa non fu un'ottima scelta, perché per questo venne denunciato appunto dai compagni di cella e fu condannato. Insomma, come vedete, l'istoria di questo genere è pieno, Antonella me ne ha mandati veramente un'ottantina e sono una più bella dell'altra. Vi ho letto alcune delle più belle, ma ripeto, ci sono donne accusate di aver succhiato il sangue ai bambini, donne accusate di aver portato morte nella casa dei vicini con la loro presenza, donne accusate di aver portato debolezza alla moglie dell'uomo di cui erano l'amante, insomma, tutto una serie di accuse che potete francamente immaginare. Come vi dicevo però, l'inquisizione non andava solo a colpire per questi motivi, ovviamente, ma andava a cercare e a colpire anche l'eresia. E talvolta l'eresia, l'accusa di eresia, era utilizzata anche per fini politici. E l'ultima storia che voglio raccontarvi in questa pidola è proprio legata ad una di queste storie. Sebastiano Arquer, che è il protagonista della nostra storia, nacque nel 1523 in Sardegna. Secondo alcune fonti era figlio di una famiglia particolarmente nobile antica, più probabilmente era figlio di una famiglia dell'alta borghesia, quell'alta borghesia fortemente legata alla macchina burocratica spagnola e che si era fortemente arricchita grazie a questo. Sebastiano, quando era ancora molto giovane, venne mandato a Siena a compiere degli studi di diritto e in effetti si laurerà in diritto civile, diritto canonico, otterrà addirittura degli studi seguenti in teologia. Insomma, si creerà una buona cultura. Mentre si trovava lì, però, sarà raggiunto da una notizia terribile, cioè che il padre, che ripeto, lavorava per la macchina burocratica spagnola, era stato inquisito dall'inquisizione. La sua colpa era quella di aver supportato l'allora vicere di Sardegna, che era stato accusato in un processo per negromanzia e si diceva che il padre di Sigismondo fosse implicato in quegli avvenimenti. Era stato torturato, era stato imprigionato ed era stato liberato solo dopo un anno e mezzo, ovviamente, di grandi privazioni. Il nostro Sigismondo, come è facile pensare, era giovane, era lontano da casa, sapeva che il padre era imprigionato. La cosa non la fece passare. Si fece montare una grande rabbia e dato che non aveva modo da solo di poter intervenire sulla Sardegna, cercò di sfogarla in qualche modo. Ora, oggi potremmo immaginare che uno andrebbe su Facebook e scriverebbe un post arrabbiato e così via. Ecco, diciamo che Sigismondo fece qualcosa forse di simile. L'università, infatti, aveva conosciuto un tal Sebastiano Münster, che all'epoca, ancora no, ma qualche anno dopo sarà poi accusato di e accusato di essere vicino ai riformati, il quale stava scrivendo un libro, una cosmografia, con cui voleva descrivere tutte le terre conosciute e chiese proprio al nostro Sigismondo di scrivere una breve descrizione della Sardegna. Una descrizione che sarà lunga 6-7 pagine, sarà inserita nel libro che poi sarà stampato a Basilea, che però sarà una descrizione sia dal punto di vista fisico-territoriale, sia dal punto di vista delle tradizioni, ovviamente della Sardegna, ma sarà anche una durissima descrizione di tutti i mali e la corruzione che pervadevano proprio la gestione dell'isola, con le autorità civili che saranno appunto accusate di corruzione, ma anche le autorità religiose, compresa la stessa inquisizione, che saranno accusati di perseguire degli interessi personali. In realtà questo suo scritto inizialmente passò completamente sotto silenzio, nessuno se ne rese conto, tanto che il nostro continuò a rimanere nella zona di Siena e per alcuni anni continuò a proseguire la sua professione, lavorando come avvocato, pare peraltro molto apprezzato e riconosciuto come ottimamente preparato dal punto di vista giuridico. Ad un certo punto però decise di ritornare in Sardegna, raggiunse il padre e qui, anche grazie agli uffici del padre che una volta riabilitato aveva guadagnato posizione all'interno della corte spagnola, venne incaricato di alti compiti proprio in Sardegna. Raggiunse la Spagna, venne incaricato dal sovrano, tornò in Sardegna e qui si mise a cercare di riorganizzare, modernizzare tutta la macchina spagnola che si occupava della riscossione dei tributi. Arrivato in Sardegna, questo suo tentativo di cambiare le cose, ovviamente lo mise in scontro con i nobili locali, con le famiglie locali, che con i rapporti con la Spagna, ma anche dalla libertà che il lassismo spagnolo e una certa corruzione gli davano, ovviamente ci campavano e che non avevano nessuna intenzione di perdere questo loro potere a causa di quel giovanotto sbucato fuori dal nulla. E così, a cominciare dalla famiglia Aymeric, che all'epoca era la famiglia più fo, più potente in Sardegna, iniziava in tutti i modi a cercare di fargli la guerra, prima accusandolo di corruzione, cercando addirittura di eliminarlo, e ad un certo punto andando proprio a riscoprire quel libricino di cui aveva scritto una parte e accusandolo quindi di eresia, cioè di essere vicino ad un eretico e allo stesso tempo di avere attaccato duramente proprio l'inquisizione, le figure religiose in Sardegna, con quelle sue scritte. Inizialmente il nostro Arquer riuscì a resistere, venne richiamato in Spagna, ma qui venne aiutato da una serie di deposizioni, a cominciare da quella del Vescovo di Cagliari, che lo conosceva personalmente e che su richiesta del re spagnolo disse che dal suo punto di vista non vi era nessuna possibilità di accusa, che Arquer era un giovane preparato, che non aveva nessuno scheletro nell'armadio, ma progressivamente le voci andarono ad aumentare e quando il vicere di Sardegna venne sostituito, e quello nuovo era imparentato proprio con gli Heimerich, sarà proprio lui a chiedere sempre di più che Arquer venisse inquisito. E alla fine ciò che fece ovviamente traboccare il vaso fu l'interpretazione di uno dei passaggi del suo scritto in cui sembrava accusare non solo le cariche religiose in Sardegna, ma addirittura tutta l'inquisizione spagnola di corruzione. A questo punto il nostro venne inquisito, gli si venne torturato, gli si chiese di abbiurare, ma lui resistette dicendo che quello che aveva scritto era tutto verissimo, che quella era la corruzione contro cui lui voleva lottare. Possibilità non gliene vennero date e alla fine, proprio per aver confessato di aver fatto quello di cui era accusato, sarà alla fine condannato e bruciato sul rogo. Qualcuno lo considera, a torto ragione, un po' il Giordano Bruno della Sardegna. Certo le motivazioni forse erano decisamente meno filosofiche, una figura forse un po' meno affascinante, ma la sua fine, una ventina d'anni prima delle frate bruciato in campo dei fiori, fu purtroppo la stessa. E qui noi ci fermiamo, anche se in realtà, come potete immaginare, vi dicevo, di storie di questo genere ce ne sono un sacco. Se Antonella volesse mettere a disposizione il testo che mi ha mandato, secondo me c'è veramente tanto, tanto per incuriosirmi, ma la pillola sarebbe diventata lunghissima, lascerei eventualmente aggiungere tutti gli altri nomi. Io mi fermo qua. Vi ringrazio di avermi seguito fino a questo punto. È un argomento che mi affascina, magari poi lo riprenderemo anche in futuro. Peraltro, vi ricordo, l'avevo fatto all'epoca che c'è un sito web che si chiama Ereticopedia, che racconta proprio anche di questi casi, lo trovate liberamente, e peraltro fatto anche dai gestori del canale Parresia, con cui avevamo fatto in collaborazione anche la pillola scorsa, e che vi consiglio perché è veramente un bellissimo canale. Io intanto mi fermo qua, ripeto, magari in futuro riprenderemo l'argomento. Intanto, come sempre, vorrei ringraziare tantissimo abbonati Patreon, perché anche grazie al loro sostegno che questo canale va avanti, grazie al sostegno di chi fa le donazioni su Paypal e chi fa gli abbonamenti Patreon, questo canale va avanti e può produrre sempre nuovo materiale a disposizione di tutti. Oggi, in particolare, vorrei ringraziare Alessandro Merlo. Grazie mille per il tuo sostegno fino ad oggi. Per il resto, come sempre, io vi ricordo di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. E se volete curiosare tra qualcuna di queste storie, qui a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso. Noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia. A presto, ciao ciao!